Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta in Libertà. Eccoci nello spazio riservato ai vocalizzi, siamo in compagnia di Elena Tulliani, che ci aiuterà per quanto riguarda le voci femminili e faremo un vocalizzo. La scorsa puntata è uscita un video che parlava di una scala particolare di tre note presenti in tante canzoni in questa scaletta e quindi io ho costruito un vocalizzo, l'ho proprio inventato, perché fare le tre note così singole può risultare semplice, però messe in una frase musicale queste tre note possono risultare scomode. Quindi facciamo una frase musicale che sarà questa. Quindi le note sono Do, Re, Mi, Fa, Sol, Ba, Mi, Re, Do, Mi, Sol, Mi, Mi, Re, Do, ribattendo il Mi e lo facciamo con la In modo che diamo l'idea che c'è un canto e alla fine c'è questa chiusura con le tre note Quindi partiamo sempre da una nota più bassa Partiamo proprio dai bassi Vai Quindi per gli uomini sarà Oh mio Dio Per le donne invece sarà Anche Ellen non è un alto, è soprano, quindi partiamo di qua Andiamo avanti Ovviamente se siete tenori o soprani sentite che è troppo basso, aspettate prima di partire Più in alto Diciamo che vi aggiungete I, 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 I. I, 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 I… Andate voi curate bene le tre note a scendere qua ormai ci sono tutte le voci continuate da soli Rè la Rè la I A Mó About 2 i i I Ovviamente se sentite che è troppo alto o vi affaticate in qualche modo fermate E fate solo la zona che più vi interessa e che vi è più comoda In questo vocalizzo l'importante è curare le tre note a scendere Serve proprio per abituarci a questa scala Facciamo ancora questo Scendiamo E a a a a a a a a 1 da setore E poi Ahà, ahà, ahà Ahà, ahà Ahar. Diamo initusi. Ahà, ahà Ancora Facciamo ancora un paio Poi alcune voci vanno ancora più giù Noi ci prendiamo Bene, spero che questo vocalizzo vi sia stato utile Io ringrazio Elena Grazie a te Per averci dato una mano E vi diamo appuntamento alla prossima puntata Ciao Ciao